Finalmente siamo arrivati alla scadenza ciclica della regina delle cripto, quella che stavamo aspettando da un po' di mesi e di cui abbiamo ampiamente parlato. Ora qui le due strade si dividono ed Ethereum dovrà andare a prendere una direzione ma importantissimo in questo momento andare a ragionare sulla regina delle cripto che in effetti potrebbe anche aver fatto il bottom del ciclo annuale. Da qui significherebbe una fase nuova completamente diversa dalla precedente e attenzione secondo l'ultima questione legata al trend dell'ultimo ciclo potrebbe anche essere rialzista. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video Ethereum ha toccato il bottom conviene in questo momento iniziare a ragionare su una fase di accumulo e un lead indicator per quanto riguarda le criptovalute e anche le altre che in questa fase dell'anno hanno sofferto veramente tantissimo. è un primo tassello che si va a posizionare sul puzzle delle cripto e da un po' di mesi che non ne parliamo perché stavamo attendendo proprio questo momento, un momento che secondo me può essere estremamente rilevante da andare anche a ragionare non soltanto per la questione dell'analisi ciclica di ETH e del suo trend, di quanto è importante il minimo che è stato fatto negli scorsi giorni ma anche poi relativamente al rapporto tra Ethereum e Bitcoin che ha raggiunto una fase di minimo proprio nella scorsa settimana ed in un contesto ciclico che era atteso il minimo, è vero non è stato molto pronunciato solitamente quando avvengono minimi importanti per un asset finanziario sono pronunciati in un contesto del genere quindi andremo a ragionare ovviamente con molta parsimonia diciamo così e attenzione su questa criptovaluta. Oggi video dedicato alla regina delle cripto, a quanto è importante conoscere queste informazioni in questo contesto e a quante può essere in effetti estremamente vantaggioso l'acquisizione di una posizione su ETH in questo momento. Ma prima di andare avanti ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi i pollicioni ma oggi abbiamo anche un video sponsor ragazzi abbiamo uno sponsor e di cui volevo parlarvi che è NordVPN. In pratica quasi tutti conosceranno NordVPN ragazzi perché è un software relativo alla creazione di VPN ma non solo questo alla privacy quindi alla copertura dei nostri dati mentre navighiamo in rete ma anche all'acquisizione delle nostre password attraverso quello che è il loro password manager che hanno anche implementato. NordVPN è senza ombra di dubbio una delle VPN più famose al mondo e che cosa ci serve? Perché ci serve anche nelle cripto ragazzi? Perché nelle cripto la questione privacy e la questione legata al flusso dei dati anche durante la navigazione è molto molto importante. molto di più che anche in altri contesti e quindi nascondere un po' le tracce per tanti motivi ragazzi di cui magari possiamo anche parlarne è fondamentale anche perché i nostri dati per esempio quando andiamo a creare un wallet nuovo su un sito eccetera sono visibili durante la navigazione. ovviamente ci devono essere anche dei motivi per cui la nostra persona debba essere attaccata però mai dire mai e visto che ne abbiamo viste di tutti i colori è assolutamente importante andare a proteggersi in un contesto del genere soprattutto quello legato alla cripto. coprire le nostre tracce quindi evitando disporre i nostri dati sensibili come i saldi per esempio delle operazioni quello che facciamo a livello di trading su un exchange eccetera diventa assolutamente importante e anche in alcuni contesti soprattutto se andate a ragionare su alcuni siti dove vi collegate la DeFi eccetera diventa addirittura fondamentale per la protezione della nostra sicurezza. NordVPN quindi va a risolvere un po' questo problema ragazzi ci sono anche in questo momento anche delle promozioni estremamente interessanti legate ad Amazon vi danno dei buoni Amazon quindi mi sono fatto dare un coupon un link che trovate in descrizione quindi cliccando sul link in descrizione potrete soffrire di una serie di promo che adesso vi dico poi le funzionalità principali che molti di voi magari già conosceranno sono il threat protection che è molto importante per bloccare i malware e le pubblicità anche i tracker sul web e tante altre cose poi il meshnet che crea una rete cifrata per condividere alcuni file se qualcuno di voi lo usa anche per lavorare e ricevere degli avvisi se i nostri account vengono compromessi e si possono anche realizzare poi degli IP dedicati quindi sostanzialmente importantissima ma c'è anche un altro motivo per cui l'ecristo è importante. vi ricordate la questione degli exchange che non possono essere utilizzati nel territorio in questo caso italiano allora con la VPN voi essendo che vi collegate da un altro territorio riuscite a utilizzare per esempio exchange differenti come vi ricordate per esempio l'exchange Prime XBT. allora questo è quello che vi appare se provate a collegarvi alla Prime XBT vi ricordate questo exchange l'abbiamo utilizzato veramente tante volte senza VPN ora vi faccio vedere la versione VPN. questa invece è la versione con la VPN perché in pratica mi sto collegando da un altro territorio io in realtà ho dovuto fare il contrario vabbè però per farvi vedere l'esempio allora con la VPN potete anche connettervi a degli exchange che per esempio non sono disponibili all'interno del territorio ovviamente con le dovute cautela e se conoscete i rischi connessi a questi tipi di exchange. e poi ovviamente potete fare anche la stessa cosa utilizzando i vari Netflix eccetera se volete un catalogo differente per esempio se siete dall'estero avete bisogno del catalogo italiano dovete usare una VPN. quali sono le offerte riservate le trovate qui la più sicuramente vantaggiosa è l'offerta plus con un costo estremamente ridotto in sconto e 20 euro del buono Amazon vi danno un buono Amazon da 20 euro e avete anche incluso il password manager che secondo me è una delle funzioni più importanti in questo contesto. quindi vi lascio il link in descrizione per la VPN di Nord e passiamo alla questione legata al grafico di ETH ragazzi. allora primo punto di questo video andremo a guardare quello che sono i cicli legati a Ethereum relativi proprio alla questione del ciclo annuale di ETH. allora ciclo annuale di ETH ragazzi lo abbiamo detto mille volte o ha chiuso a giugno 2022 ed è iniziato lì un nuovo struttura ciclica oppure ha fatto una specie di lingua di buyer corta così definita un errore ciclico tecnicamente di questo è una lingua di buyer corta i mercati delle crypto li fanno sempre quindi non pensate che non siano che siano cose poco anomale perché anche Bitcoin l'ha fatta proprio pochi giorni fa. allora questo tipo di struttura però ci dà due possibilità che abbiamo seguito su ETH ciclo annuale in partenza da giugno 2022 e quindi in fase di chiusura in questi giorni ciclo annuale invece è sguicciato a novembre insieme a Bitcoin e quindi ancora lontano dalla sua chiusura. la questione è proprio legata a questo un problema qui ora cosa significa significa in gergo tecnico che teoricamente in questo minimo che siamo andati a realizzare su ETH la scorsa settimana vi faccio vedere le candele ma il minimo è stato fatto l'11 di settembre la settimana dell'11 di settembre queste sono candele settimanali ma io in close la considero il 18 di settembre quando guardo grafici di questo tipo di asset temporale quindi più di un anno mi piace utilizzare le close sono meno incisive delle shadow nelle crypto e anche meno sono un po' farlocche perché le crypto non sono poi regolamentate sui mercati quindi hanno a volte delle shadow e dei minimi che sono diversi da exchange ad exchange. ora la questione è legata alla ripartenza in questo punto che cosa è iniziato in questo punto se noi iniziamo un ciclo annuale su ETH lo consideriamo iniziato a giugno 2022 su questo minimo siamo a 448 giorni circa questo significa che il minimo della scorsa settimana può essere tranquillamente il minimo del ciclo annuale di Bitcoin e quindi di Ethereum scusate e in questo caso da lì ETH potrebbe in effetti iniziare una nuova struttura ciclica annuale attenzione a questa cosa perché una nuova struttura ciclica annuale che inizia in un punto del genere ha punto primo tutte le caratteristiche per andare a fare nuovi massimi su ETH punto secondo non è scesa tanto quindi non è un minimo importante quindi potrebbe anche lanciare proprio una fase di burn run di ETH notevole e riavvicinarlo poi ai massimi storici questo lo dico lo ripeto mi avvicino al monitor solo se da lì inizia un nuovo ciclo annuale ma un nuovo ciclo annuale se inizia in questo punto ed è l'ipotesi 1 ragazzi adesso vediamo anche la 2 può essere molto vantaggioso perché ETH non ha fatto un ribasso rilevante parliamoci chiaro in questa fase ci sono anche tanti motivi per cui il prossimo anno potrebbe essere l'ETH e questo molti ETH fanboy lo sanno bene ragazzi io sono più Bitcoin fanboy però i dati poi tecnici li analizziamo comunque insieme e andiamo a seguire quelli che sono i trend quindi una cosa sono come si dice gli amori una cosa è la struttura analitica di dati scientifici che andiamo a utilizzare statistici che andiamo a utilizzare per quanto riguarda le speculazioni finanziarie quindi le nostre operazioni di investimento sono delle cose differenti allora questa fase qui in pratica è molto ghiotta è molto interessante quindi se l'ipotesi 1 è valida la possibilità che qui sia iniziato un nuovo ciclo annuale di ETH la dobbiamo tenere in conto e quindi iniziare a valutare questa criptovaluta insieme a Bitcoin come molto da attenzionare anche una criptovaluta sulla quale poter investire questa trendline stampatela in testa mettetela sui vostri grafici è una trendline spartiacque non è una se lo fa allora è sicuro ma è un primo tastello cioè il superamento di questa trendline è un primo tassello il secondo tassello è il superamento dei 1900 dollari quello che vi ho inserito qui questa zona qua 1950 per essere precisi dopodiché questo è il primo tassello quindi punto numero 1 per avere una conferma punto numero 2 per avere una conferma e ovviamente il massimo di questo ciclo annuale è il punto numero 3 a dire la verità essendo la particolarità di ETH vincolata diciamo a due strutture di cicli annuali neanche sopra il punto numero 3 avremo la sicurezza che effettivamente si sia chiuso un ciclo annuale perché dovremmo comunque attendere il lasso temporale dell'ipotesi 2 che adesso vediamo perché è così ragazzi ciò significa che da un punto di vista tecnico non possiamo utilizzare le informazioni cicliche in questo preciso contesto per avere conferma ma dobbiamo quindi operare con la vecchia buona e super strafiga analisi tecnica e ovviamente al livello di gioco vale la candela conviene assumere posizioni a favore di trend in un contesto del genere perché poco rischiose e perché anticipatorie di un eventuale movimento ma ovviamente tenendo conto del fatto che se questo trend non va da nessuna parte bisogna chiudere le operazioni in stop o in break even e ritentare più in là questi sono atteggiamenti che i trader conoscono stra bene se avete formazione sull'ambito trading in questo contesto riuscite molto bene a cavalcare i momenti di fulcro prendete uno due stop magari ma poi quando il trend vi parte ragazzi vi dà un grande vantaggio perché immaginate cosa significa essere in un contesto del genere magari già posizionati sulla regina delle cripto e affistere poi un'eventuale fase di bull run o di atteggiamento rialzista di un nuovo ciclo annuale l'ultimo ciclo annuale è stato molto pronunciato da qui siamo arrivati in questo punto ma quasi subito vedete ha fatto una massima notevole quasi 100% di rialzo quindi un ciclo annuale può dare grandi soddisfazioni immaginate cosa significa essere posizionati qui assumere un po' di rischio e prendere qualche stop fa parte del gioco quindi i trader lo sanno gestire ed è importante saperlo gestire perché vi dà un grande plus ragazzi una grande capacità di poter portare a casa profitto in questo contesto e poi anche un grande vantaggio informativo perché se TH inizia un nuovo ciclo annuale probabilmente alcune cripto seguiranno a ruota quindi potrebbe essere una fase importante passiamo invece alla altra faccia delle medaglie l'altra faccia della medaglia è questa questa è la mia moneta ETH ragazzi perché mi hanno regalato una moneta ETH un iscritto academy e corsista nell'ha spedita per Natale un Natale scorso non questo e la seconda faccia della medaglia di ETH è sostanzialmente la fase in cui ancora non abbiamo chiuso il ciclo annuale quindi non è partito da qui l'annuale ma è iniziato da novembre insieme a Bitcoin questo ci dice che abbiamo ancora tempo sostanzialmente nella seconda versione il ciclo annuale deve andare a chiudersi verso più o meno febbraio ma gennaio febbraio del 2024 ciò significa che da questo punto non è iniziato il nuovo ciclo annuale ma l'ultimo movimento che va a chiudere il ciclo annuale probabilmente così allora chi è dell'ipotesi numero 1 alzi la mano come si suol dire scrivetemelo nei commenti ragazzi chiede l'ipotesi numero 2 scrivetemelo nei commenti quale delle due state seguendo c'è un modo per conoscere e avere le idee più chiare e sapere quale delle due è valida assolutamente no a meno di fare ipotesi e opinioni e questo è un altro tipo di discorso ne dobbiamo seguire entrambe le view quindi il trader preparato l'investitore preparato ragazzi segue entrambe le view perché non si assume il rischio di restare fuori dal carro e dal treno se ha sbagliato più quindi la logica impone di seguire entrambe queste view su eth in questo momento quindi questo ultimo movimento che è un probabilmente uno struttura ciclica abbastanza elevante queste sono più o meno due strutture cicliche da 150 giorni che hanno creato una struttura ciclica da circa 300 giorni vedete la mia fase classica temporale di eventuale prima zona di chiusura e da qui probabilmente iniziata una nuova struttura ciclica che potrebbe o raccordare queste qui ma comunque vedete da circa 140 quindi una struttura sostanzialmente un semestrale un po' cortino ma comunque un semestrale e la struttura così quindi ci dice già una cosa questo semestrale fa parte dell'ultimo annuale e dell'ultimo movimento dell'annuale farà così fa parte invece dell'ipotesi 1 e quindi l'annuale ha già chiuso potrebbe fare così ok questo sono ipotesi 1 questa è l'ipotesi 2 di cui abbiamo visto oggi quindi annuale chiuso annuale ancora da chiudere queste due ipotesi però ci dicono anche un'altra informazione da qui si sale un pochino questo è il grande vantaggio quindi si sale un pochino si dovrebbe salire un pochino perché tra stop hunting l'altro giorno mi hanno preso con uno stop hunting una posizione long su bitcoin ragazzi avete visto quella il naso quel neck che c'era però sostanzialmente la probabilità è un po' verso la fase di salita per qualche giorno quindi assumere posizione in questo momento non è così tanto sbagliato ok magari attendiamo una fase secondo le vostre strategie vostri trading plan per assumere una posizione long e da lì si attende un po' perché anche prendere uno stop un break even non fare granché di profitto potrebbe valerne la candela visto che potremmo essere nell'ipotesi 1 di nuovo ciclo annuale e comunque dovremmo essere su un nuovo ciclo semestrale che già qualcosina di importante la fa magari il 20-30% di rialzo se lo può portare a casa con tranquillità quindi se le cose dovessero andare male poi prendiamo la via di fuga successivamente allora eth non è solo in una condizione del genere da un punto di vista di pricing contro il dollaro ma anche di pricing contro bitcoin perché vi ricordo vi ricordo il famosissimo grafico che vi faccio vedere da ormai più di un anno e mezzo forse quasi due della super barra di congestione di ethereum contro bitcoin che stava chiudendo un ciclo quadriennale estremamente rilevante cioè il ciclo dell'albing di ethereum contro bitcoin un ciclo che dura quattro anni ed è in fase di chiusura in questo momento cioè in questo momento intendo né in questi mesi va bene abbiamo sull'ultimo minimo chiuso un 1477 giorni che sono circa quattro anni di eth circa quattro anni contro bitcoin e la struttura è anche estremamente interessante perché dall'ultimo ciclo annuale ethereum bitcoin che sicuramente è iniziato in questa fase qui questo ciclo annuale che insomma è stato un po strano sono passati sull'ultimo minimo 469 giorni un po lungo per essere un ciclo annuale di contro bitcoin perché di solito quelli sono un po più piccolini però sostanzialmente c'è una struttura del genere poi anche lungo perché ha fatto solo trading range la cosa strana è che mi sarei aspettato sono sincero una struttura ribassista di questo ciclo annuale quindi un atterraggio di eth sotto i 0052 contro bitcoin cosa che non è avvenuta quindi un po il dubbio mi rimane ragazzi in ogni caso anche a livello tecnico abbiamo fatto 100 vi rifaccio il posizionamento dei cicli quelli teoricamente trimestrali barra semestrali abbiamo fatto un 112 poi 175 sono un semestrale poi abbiamo un movimento da circa 90 100 giorni qui più o meno e poi abbiamo un movimento da 84 giorni quindi in teoria ci siamo a livello anche dei sottocicli temporali certo è che se dovessimo essere in una fase che probabilmente ancora e th non ha chiuso ciclo annuale assisteremo al famoso ultimo movimento che porterà probabilmente e la regina delle cristo a fare questa struttura qui chiudere in questo modo una struttura con un ciclo annuale ribassista contro bitcoin e segnare anche la conferma della chiusura probabile del ciclo quadriennale da lì sarebbe un'altra informazione interessante un'altra dato molto importante per magari andare a sguicciare un po di posizioni verso la regina delle cristo cosa ne pensate di queste analisi fatemelo sapere nei commenti e confrontiamoci come sempre buon weekend a tutti noi ci vediamo nel prossimo video